Oggi una ricetta opulenta, ma dentro c'è di tutto E se ci pensate anche di più Io in realtà sto facendo un amico No, mettici due ore per arrivare No, vieni Vieni, è anche il Presidente della Repubblica Io sono meglio del Presidente Anche più giovane del Presidente della Repubblica Lo vedete chi è questo qui? Ciao Allora cominciamo Ricetta ricca, tanto spec Ma in realtà poi è di una semplicità estrema Prima cosa dello spec Dello spec affettato Ne prendete 4-5 fettine Considerate che sto facendo circa E lo andate a affettare in modo piuttosto sano Non togliete assolutamente sano E si va subito in padella Padella senza spec di salsicce 4 salsicce 4 persone E una di riserva Andiamo a spellare le persone La quinta salsiccia In realtà non è un in più Serve bene Ma nella speranza E non è un in più Sono appena par BON. huh MEREY CHRISTMAS